L'Unione Revisore 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 se vedete voi quanto dura, secondo te pensavo non solo che è il merito che lo definisco nella mia vita ma poi sono via morte al punto questa cazzola è uscita e non è bella quando è in anticipo su tuo supporto per la nuova chiederti il nostro amore è quella gente consumata nel farsi davvero un amore così lungo trovato l'oreo in fretta non sparcare labbra in corso di parole la tua labbra così infranata nelle fantasie dell'amore dopo l'amore così sicuro a rifugiarsi e in sempre nelle tue risierde mai non sei riuscita a cambiare quanto cambiate oppure si potrebbe riprendere appunto la nuova rossa l'amico e poi il sospenso tra i vostri come sta ma è abbigliato da luoghi meno comuni e più feroci tipo come ti senti amico amico fragile se vuole potrò occuparmi in un'ora al mese di te il signor di André il signor di André lo sa che io ho perduto due figli un belè signora lei è una donna e un torto e strafile ma forse qualcuno voleva tenere il tempo battere le mani almeno alla fine perché di questo si tratta c'è una donna che si riega la luna la patata si vede il velano il velano che sta a partire la patata le viene la guerra per la guerra non c'è più sull'arri a miei spazi sono tutti escapati angiolina cammina cammina a miei spazi a miei spazi ha una a miei spazi il gelato per la guerra nel secondo cammina cammina che si ha un problema lo telliente ci si ha un problema e lo suyo Faculty surprise a miei spazi L'ultima storia L'ultima storia L'ultima storia L'ultima storia